Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la preghiera della Tredicina in onore di Sant'Antonio oggi così recita O generoso Santo, che accogliendo la divina ispirazione hai consacrato la tua vita al servizio di Dio e dei fratelli, fa che io ascolti sempre con docilità la sua parola. Queste parole della Tredicina ci invitano a riflettere sulla preghiera. La preghiera, infatti, è soprattutto ascolto di Dio che vuole parlare al nostro cuore, è ascolto della sua parola, è ascolto delle sue celesti ispirazioni. Per pregare bene, dunque, bisogna innanzitutto ascoltare. Sant'Antonio da Padova così scriveva Il penitente, giunto alle altezze di una vita incontaminata, trova i pascoli della Sacra Scrittura e alimentandosi con la lettura del Libro Santo, giunge alla gioia della preghiera devota. Per raggiungere anche noi le gioie della preghiera devota, bisogna che ci alimentiamo ai pascoli della Sacra Scrittura. In un altro passo, Sant'Antonio così scriveva Richiama alla memoria i più bei giorni della tua vita, i giorni della tua innocenza, quando Dio illuminava con la grazia la tua anima e ti parlava nella preghiera e ti guidava e custodiva in tutto quello che ti accingevi a fare. Vivevi allora felice con Lui nella sua città, ma tu hai voluto uscirne e allora gli assassini ti hanno aggredito, ti hanno coperto di ferite, ti hanno spogliato di ogni bene. Piange e sospira la felicità perduta, ora che giaci quasi senza vita nella tua miseria, incapace di rialzarti. Per rialzarci e ritornare all'innocenza perduta, il cammino è quello della preghiera. Allora torneremo ad ascoltare Dio che parlerà al nostro cuore. La preghiera è il bene più prezioso. Sant'Antonio arrivava a dire Vale più una sola anima santa con la sua preghiera che innumerevoli peccatori con le armi in pugno. La preghiera del Santo penetra i cieli. E inoltre diceva Con la preghiera purifichiamo il cuore dai pensieri cattivi e con il digiuno fregniamo l'arroganza della carne. Coltiva l'umiltà del cuore perché la preghiera dell'umile penetra le nubi e non si ferma finché non ha conseguito ciò che domanda. Sant'Antonio ha scritto cose bellissime sulla preghiera ma innanzitutto è stato lui un'anima di preghiera. È stato un'anima che ha assaporato le gioie più ineffabili in questo dialogo cuore a cuore con Dio. Un episodio nel quale emerge la ricchezza della preghiera di Sant'Antonio è quello che avvenne a Campo San Piero negli ultimi tempi della sua vita. Sant'Antonio ottenne di ritirarsi in preghiera nel luogo che il conte Tiso aveva affidato ai francescani nei pressi del suo castello. Camminando nel bosco, Sant'Antonio notò un maestoso noce e gli venne l'idea di farsi costruire tra i rami dell'albero una specie di celletta. Tiso gliel'allestì. Il santo passò così in quel rifugio le sue giornate di contemplazione rientrando nell'eremo solo la notte. Una notte il conte si recò nella stanzetta dell'amico quando, dall'uscio socchiuso, vide sprigionarsi un intenso splendore. Temendo un incendio, spinse la porta e restò immobile davanti alla scena prodigiosa. Sant'Antonio stringeva fra le braccia Gesù Bambino. Quando si riscosse dall'estasi e vide Tiso commosso, Sant'Antonio lo pregò di non parlare con nessuno dell'apparizione celeste. Solo dopo la morte del santo, il conte raccontò quello che aveva visto. Sull'esempio di Sant'Antonio preghiamo anche noi. Preghiamo bene e preghiamo tanto. Nella preghiera noi parliamo con Dio e soprattutto lo ascoltiamo. ascoltiamo le sue celesti ispirazioni che ci inviteranno a fare il bene e a evitare il male. E sull'esempio di Sant'Antonio alimentiamoci anche noi ai pascoli della Sacra Scrittura così da giungere alle gioie della preghiera devota. O generoso Santo, che accogliendo la divina ispirazione hai consacrato la tua vita al servizio di Dio e dei fratelli, fa che io ascolti sempre con docilità la sua parola. Sant'Antonio prega per noi. Sant'Antonio prega per noi. Grazie a tutti